Consulta e migrazione. Proposta di legge per i campani all'estero. Commissione pari opportunità. Bando per le scuole ischitane colpite dal terremoto. La consulta regionale per l'immigrazione si è riunita in consiglio regionale con la partecipazione della Presidente Rosa D'Amelio, delle consigliere regionali componenti della consulta Antonella Ciaramella e Maria Muscarà, dell'assessore regionale Corrado Matera e dei consultori in rappresentanza delle comunità dei campani all'estero. Nell'occasione è stata illustrata la proposta di legge Iniziative per i campani residenti all'estero, finalizzata a sviluppare una più forte rete di relazioni e di scambi sociali, culturali, economici, turistici tra le diverse comunità all'estero e la campania e sono stati rilanciati gli obiettivi della consulta. Abbiamo qui i rappresentanti dei campani che ci sono nel mondo e con loro ci siamo confrontati per la nuova legge, ma soprattutto perché dobbiamo con le giovani generazioni fare in modo che l'immagine del nostro paese dal punto di vista turistico, culturale, della marketing, vendita dei prodotti d'eccellenza, se pensiamo alla moda napoletana e all'eccellenza dell'enocastronomia campania, possa avere loro come ambasciatori nel mondo e sono persone le cui famiglie sono andate via da tantissimi anni dalla nostra terra, ma hanno conservato intatto l'amore per i nostri territori, si sentono pienamente americani, australiani, ma soprattutto italiani. Ci sono le condizioni per avvicinare tanti che per necessità sono andati fuori e che oggi ricoprono anche incarichi di grande responsabilità. Abbiamo messo in pista un progetto che va proprio in questa direzione, avvicinare i tanti alla campania e fare in modo che la campania possa essere conosciuta nel mondo. È una regione che ha tanti punti di forza, dal culturale all'enogastronomico, al mare, al verde, insomma ci sono le condizioni per diversificare l'offerta turistica e anche pensare alla destagionalizzazione. Dopo sei anni finalmente si riattiva la consulta che diventa non più un semplice comitato ma è un consiglio regionale dei campani all'estero. Abbiamo una proposta di legge per modernizzare questo organismo e far diventare questo un punto non solo di osservazione ma di collaborazione, di scambio culturale ma anche commerciale, economico e di osservazione delle nuove migrazioni che a partire dalla denominazione devono cominciare a parlare di flussi di mobilità, di osservazione dei nuovi cambiamenti demografici. La Commissione regionale per le pari opportunità, presieduta da Natalia Sanna, scende in campo per sostenere le scuole schitane danneggiate dal terremoto del 21 agosto con un bando regionale che porterà negli istituti comprensivi Mennella di Lacquameno, Ibsen di Casamicciola e al liceo statale di Ischia Porto materiali didattici, computer, stufe e attrezzature sportive. La presentazione è avvenuta nella sede del Consiglio regionale della Campania, con la Presidente Sanna e le componenti della Commissione, le dirigenti delle scuole interessate, il Sindaco di Lacquameno, Giacomo Pascale, la Consigliera regionale del PD, Loredana Raia. Ai nostri microfoni la Presidente Sanna e la Consigliera Raia. Abbiamo pensato, con l'ausilio naturalmente di tutto il Consiglio regionale nella persona della dottoressa D'Amelio, quella di premiare simbolicamente questi ragazzi, ma anche concretamente, regalando secondo le loro esigenze, computer, attrezzature sportive, stampanti. Perché loro avevano bisogno di tutti i generi, anche di prima necessità. Quello che però abbiamo potuto dare è stato questo. Ed è per loro molto, perché è un gesto che loro hanno gradito tantissimo ed è stato veramente significativo. C'è un impegno diretto per dare una testimonianza di vicinanza anche da chi si occupa di pari opportunità in Regione Campania per i giovani studenti delle scuole di Ischia. E questa iniziativa è importante proprio perché dà il segno di come bisogna ripartire innanzitutto con l'attenzione verso i giovani, verso quelli che sono stati più colpiti nel luogo che rappresenta, dovrebbe rappresentare sempre il luogo della massima protezione e sicurezza, dunque la scuola. E dare questo messaggio di vicinanza è un segnale importante che significa ripartire e ripartire nella giusta direzione. Grazie.